Buongiorno a tutti fratellini! Bentornati da Ivali Vudi sul nostro canale! Finalmente fratellini è arrivato Natale, sono arrivate le luci, la neve, è arrivato il freddo, è arrivata la voglia di creare qualcosa di natalizio e di fare i regali. Difatti non so se avete visto che il nostro set è diventato totalmente natalizio, con le luci, con tutto quanto, perché è un po' di atmosfera e un pizzico di magia. Oggi fratellini andiamo a fare il nostro personale albero di Natale, perché ovviamente qui a Ivan Hype Art non possiamo fare l'albero di Natale uguale a quello di tutti gli altri. Quindi andiamo a vedere qualche idea su come addobbare il proprio albero in una maniera molto originale. Andiamo a vedere! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.